Questa mattina presso la sede del Comune di Fabriano il Sindaco Roberto Sorci ha presentato le modalità su come si potrà avere facilmente le consultazioni, i risultati e quanto altro riguarda le prossime amministrative. Allora Sindaco, oggi avete fatto un altro passaggio importante verso la democrazia e la trasparenza e soprattutto l'immediatezza nella comunicazione dei risultati, un tema sempre caro a tutti gli elettori. Molte volte parlano di trasparenza senza sapere che cosa vogliono esattamente gli elettori perché io lo dico con molta chiarezza i comuni sono forse l'unico ente trasparente in tutta Italia rispetto all'impresa anche quotata in borsa o a tutto il governo lo stesso perché ogni atto comunale è affisso nelle bagache elettroniche e sulle reti civiche. Quindi credo che abbiamo dallo stipendio di dirigenti fino all'ultima operazione che fa il Comune. In questo caso aumentiamo la nostra partecipazione tra virgolette all'informazione perché io dico non è trasparenza è comunicare. Questo forse è l'unico difetto che hanno i comuni che riescono a comunicare poco tante volte. Quindi questo che abbiamo presentato questa mattina è ancora un'innovazione e siamo i primi in Italia ad avere. Il nostro sistema informativo territoriale viene coniugato con quello anagrafico del voto e quindi oggi siamo in grado di dare in tempo reale lo svolgimento delle elezioni dando la dimostrazione e i numeri a chiunque lo voglia da casa o presso la sede comunale. Quindi tutti anche chi è in giro oggi con questo piccolo oggettino potrà comunque da qualsiasi parte si trova nella città leggere i risultati in tempo reale. Quindi non è trasparenza, bisogna che cominciamo tutti quanti a fare chiarezza su che cosa vuol dire trasparenza e che cosa vuol dire informazione perché credo che questo Comune sia stato il massimo della trasparenza. Forse abbiamo comunicato poco. Allora trasparenza vuol dire dare informazione, allora sono d'accordo. Se trasparenza vuol dire che qualcuno fa gli imbrogli, io non sono d'accordo sugli imbrogli, quindi da questo punto di vista il Comune di Fabriano non ha nessun problema. La struttura comunale in questo caso ha risposto molto bene perché è riuscito a mettere insieme questo nuovo, è un programma sicuramente. Sì, ma noi siamo da questo punto di vista devo dire all'avanguardia, tant'è vero che Tg1, Tg2 durante il periodo della neve si sono interessati al nostro sistema informativo perché il nostro sistema informativo è un sistema aperto, quindi non delegato su motori a pagamento e quindi chiunque lo può vedere. A questo abbiamo aggiunto un ulteriore elemento che è quello elettorale, quindi su questa base qui è essenziale che questo Comune abbia un sistema informatico di grandissimo livello perché a questo oltre al fatto dell'emergenza, dell'urbanistica, della parte elettorale sarà per i prossimi anni essenziale anche la parte dei tributi, quindi georeferenziare tutto quello che è presente nel Comune di Fabriano sarà un ulteriore elemento per l'equità perché io torno a dire a tutti quanti le tasse le dobbiamo pagare tutti quanti perché è un elemento di equità e questo sistema collegato alle parti finanziarie aiuterà a avere in questa città la vera equità. Noi abbiamo utilizzato dei sistemi, adesso avendo dato anche internet gratis in alcune zone di Fabriano, zone turistiche, abbiamo utilizzato un QR code come viene chiamato tecnicamente che in questo caso ci permette addirittura proprio di andare direttamente ed è questa la dimostrazione della possibilità di avere informazioni in qualsiasi posto della città. Io su qualsiasi telefonino è possibile scaricare un lettore di QR code, basta andare sul sistema, eccolo qua, lui in automatico mi ha collegato la pagina dove io posso vedere tutto, anzi mettiamola per così, così si vede meglio pure, ci sono tutti i dati che sono in quel momento su internet, quindi in qualsiasi posto di Fabriano uno si può divertire a vedere che cosa succede. Vogliamo conoscere la squadra che ha messo insieme questa bella ulteriore innovazione? Sono quelli che sono dietro le mie spalle, cominciando da Enrico Branchini che è il babbo del mappo gentile iniziale con tutti gli altri ragazzi che devo dire qualche comune ha cercato di rubarmeli, ma io ho detto di no al loro trasferimento e adesso vivono a Fabriano, quindi questa è un'altra cosa di cui io sono orgoglioso di avere questi ragazzi, perché forse ce li invidia tutta Italia, perché dopo la neve molti hanno chiesto informazioni ai nostri sistemi, quindi oggi loro stanno dando un ulteriore contributo, anche se anche loro hanno un piccolo vizio. Il tempo è anche per loro un po' come per la Chiesa, non esiste, perché mi dicono sempre sindaco ci vuole tempo, ecco, il tempo invece la società, loro sono bravi sull'elettronica, sui sistemi, il tempo bisogna che cambia anche per loro. E quindi ecco, Branchini Enrico che è il primo, è il capo della banda, chiamiamola così. Eccolo qua Enrico, Branchini che è il babbo della... è un artista... Presentiamoli tutti allora questo film. Eh no, aspetta lui che è il capo, io sono il capo dei capi, lui è il capo vero. Bene, andiamo su Branchini e cerchiamo di spiegare ai cittadini come è articolato questo nuovo sistema per la presentazione dei dati elettorali. Noi abbiamo cercato di integrare il dato elettorale con la rappresentazione geografica del territorio. Sostanzialmente il territorio è diviso in sezioni elettorali e le sezioni elettorali sono rappresentate sulla mappa del comune di Fabriano e si colorano in funzione dell'affluenza al voto, in funzione della prevalenza del candidato sindaco, in funzione della prevalenza della lista piuttosto che l'altra. Addirittura tutte queste cose si possono trovare in tempo reale, si possono vedere? Assolutamente. I dati vengono comunicati dai seggi, vengono inseriti nelle nostre banche dati che alimentano il sistema di pubblicazione, tanto sulla parte geografica quanto sulla parte invece tabellare, che è quella classica, che comunque è sempre legata alla parte geografica. È possibile dal clic sulla sezione elettorale accedere all'informazione delle tabelle che rappresentano analiticamente il risultato elettorale, come è possibile? Dalle tabelle, selezionando la sezione, andare a fare lo zoom sul territorio, su quella tabella e vedere in maniera sintetica, con dei colori, con dei simboli, il risultato elettorale spalmato sull'intero territorio comunale. Questo sistema è già operativo o l'avete già sperimentato? È già operativo, lo stiamo testando in questi giorni, sarà perfettamente funzionante per domenica e lunedì prossimi, che saranno quelli in cui saremo sul campo a comunicare i risultati. Il sindaco Sorci ha detto che siamo il primo comune in Italia a aver adottato questa metodologia? Noi non abbiamo conoscenza, abbiamo cercato, non abbiamo conoscenza di altre situazioni di questo tipo. Noi ci siamo impegnati a fare questo lavoro e speriamo di essere, se non i primi, tra i primi a fare sicuramente questo. Ma è anche possibile che non molti altri abbiano raggiunto questo tipo di risultati. Quindi questo per il cittadino è un vantaggio immediato nella lettura e nella comunicazione e nel conoscere il dato elettorale poi? Certamente, noi ce l'auguriamo. Ci auguriamo che, come diceva il sindaco prima, il massimo della comunicazione porti anche il massimo di trasparenza, il massimo di informazione e quindi anche la partecipazione più ampia. Il sito ha un nome, indubbiamente, può essere identificato come? Al sito si accede attraverso la pagina principale del comune che è www.piazzalta.it e lì si troveranno tutti i link necessari per arrivare tanto alla parte geografica quanto alla parte invece di informazione tabellare sui risultati elettorali. Map Gentile è il brand della informazione cartografica del comune di Fabriano. Bene, e non poteva essere diversamente. Con il gentile e con questa bella notizia che ci è arrivata questa mattina dal comune di Fabriano noi cerchiamo di fare anche noi informazioni per dare in anteprima sul nostro sito quelle che sono le novità importanti in vista della prossima tornata elettorale.